Episodio 14 del corso di Electron, oggi vediamo come possiamo buildare la nostra applicazione, perché per ora, vedete, ce l'abbiamo, è una bellissima applicazione che fa schifo, però al momento gira solo grazie al nostro npm start. Noi non abbiamo un eseguibile che ci permette di installarlo su altri computer, quindi per ora siamo maledettamente dipendenti da quella che è il nostro progetto e la nostra console. Allora, per poter andare a creare un pacchetto installabile dobbiamo utilizzare Electron Forge, Electron di default non ha niente che ci permette di andare a buildare l'applicazione, perciò dobbiamo installare Electron Forge. E dobbiamo utilizzare questo comando npm install, o anche solo i, npm ii, meno di maiuscola che sta per, in realtà, dash dash save dash dev, in realtà ormai si può fare così. Quindi npm install come dev dependencies at Electron Forge slash cli. Quindi cominciamo, aspettiamo che installi, quindi io taglio quando ha finito, e se andiamo a vedere sul package JSON dovremmo avere, eccolo qua, Electron Forge cli. Non abbiamo ancora finito perché dobbiamo importare il nostro progetto su Electron Forge, quindi npx, non npm ma npx, electron-forge import. Facciamo invio, sta facendo tutte le installazioni di dependencies del caso, vedete ci sono un po' di step che deve fare, ci vediamo appena finito. Molto molto bene e se andiamo a vedere il package JSON abbiamo della roba aggiuntiva. Innanzitutto squirrel, vedete? È stato installato squirrel, abbiamo delle nuove dev dependencies di Forge, noi avevamo solo la Forge cli, adesso abbiamo il maker, vedete? Abbiamo diverse opzioni e in più dovremmo avere, vedete qua, i comandi sono stati totalmente cambiati, quindi adesso abbiamo la possibilità di lanciare i comandi direttamente con Electron Forge. Il prossimo step è creare un distribuibile, quindi facciamo npm run make che farà partire questo, quindi npm run make che farà partire Electron Forge make, quindi invio e anche qua dobbiamo aspettare che faccia tutto quello che deve fare. Abbiamo però un problema, non c'è una descrizione, proviamo a inserire una descrizione randomica, rifacciamo partire e come vedete ci continuerà a chiedere cose tipo l'autore, in questo caso metto prova rossi. Dobbiamo completare alcune cose, quindi ricordatevi la descrizione deve essere completata, l'autore e probabilmente ci darà altri errori, quindi facciamoli tutti. Ripartiamo, ha finito anche di buildare senza errori, quindi il problema era legato solo alla descrizione e l'autore. Adesso dovremmo avere una nuova cartella, la vedete? Questa qua non solo abbiamo Forgeconfig e quant'altro, ma questo non ci interessa. Quello che ci interessa è la cartella out. Ora facciamo tasto destro, visualizza e esplora risorse. Questa è la cartella out del progetto, la apriamo, io vado su make, squirrel per windows, abbiamo per 64 e qua dentro ho il mio setup. Facciamo partire e come vedete abbiamo la nostra applicazione, quindi abbiamo il nostro file che possiamo utilizzare come installer su altri pc windows. chiaramente poi per Mac bisognerà fare un procedimento diverso, sapete che bisogna buildare direttamente su Mac. Quello che ci manca da vedere nei prossimi video è la fase di aggiornamento dell'applicazione e tutta la parte legata al code signing, perché al momento la nostra applicazione non è sicura. Sotto in descrizione come al solito trovate tutti i metodi per supportare il canale, informazioni aggiuntive e bla bla bla. Io vi ringrazio e alla prossima. Ciao ciao!